Lunedì 15 marzo 2021, l'associazione Mao si è recata presso il presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania per donare un televisore 42 pollici ricevuto a sua volta da un donatore. Alla cerimonia ha partecipato la presidente dell'associazione Antonella Tarquini, il direttore del presidio ospedaliero San Luca, il dottor Adriano Di Vita e altri componente dell'equipe infermeristica e medica. Sì, indubbiamente, perché per un bambino ricevere un regalo è una cosa bellissima, guardare gli occhi di un bambino quando riceve un giocattolo, un regalo, è un'emozione grande per un adulto, forse perché ha dimenticato quando è bello essere bambino. Per i bambini avere giocattoli fa superare forse anche il momento tragico dell'ospedalizzazione, un momento difficile già di per sé, ancora di più adesso, che sta solo con la mamma, perché purtroppo dobbiamo un pochettino ridimensionare e non sono più concesse le visite, quindi il bambino resta solo in questi giorni con la mamma e con l'affetto che possiamo dare noi operatori sanitari, da me come responsabile ai medici, tutto il personale paramedico, la nostra educatrice della sala giochi che li fa giocare. Cerchiamo di ricreare un ambiente domestico. Sì, siamo ancora una volta qui nell'ospedale di Vallo della Lucania, questa volta per donare un televisore al reparto di pediatria. Questa volta i protagonisti sono i bambini, non possiamo fare a meno di volgere un pensiero per questi piccoli pargoletti, che purtroppo in questo periodo sono costretti a vivere maggiori ristettezze. Come diceva la dottoressa, può assisterli solo un familiare, la mamma nello specifico, e quindi noi cerchiamo tutti gli strumenti per cercare di alleggerire la loro permanenza qui. Noi siamo sempre a disposizione dell'ospedale di Vallo e di tutto il personale medico-infermieristico per qualsiasi iniziativa. L'associazione Mavo è solita aiutare i pazienti di oncologia, però non veniamo meno e ci fa piacere veramente dare un piccolo contributo anche ai piccoli pargoletti di questo reparto.